A Rezzo è la tassa di soggiorno, la bocciatura dell'Associazione Commercianti. Solo il 36% dei comuni italiani la applica. Gold Night, prima edizione notturna per la Fiera Antiquaria. Un gruppo sportivo in ogni parrocchia, incontro in seminario con l'assistente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano, Don Alessio Albertini. Clive Griffiths al Festival Cine Mi Cinema, con lo spettacolo Spichisi. Casa diritta, presentate le iniziative del Comune di Arezzo per la tutela dei diritti dell'infanzia. Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. In apertura alla cronaca è stata aperta un'inchiesta interna all'ospedale Santa Maria Lagruccia del Valdarno per la morte dell'insegnante 51enne di loro ciuffenna, avvenuta improvvisamente domenica mattina mentre si trovava ricoverata. La donna era caduta riportando la frattura del bacino ed era quindi stata ricoverata al Policlinico Le Scotte di Siena. Qui, dopo aver ricevuto le cure necessarie, è stato deciso di trasferirla alla Gruccia per proseguire le terapie di recupero. Domenica però il decesso. Arezzo e la tassa di soggiorno, la bocciatura dell'Associazione Commercianti che dice siamo assolutamente contrari, solo il 35% dei comuni italiani la applica. Una posizione di assoluta contrarietà. La Confcommercio di Arezzo torna sull'argomento relativo alla tassa di soggiorno. Solo pochi giorni fa la diffusione della nota in cui, raccogliendo il malumore degli albergatori aretini, si definiva la decisione di applicare l'imposta sul turismo ad Arezzo come una scelta inaccettabile che grava su di una categoria economica al collasso. L'Associazione dei Commercianti, dunque, in netto contrasto con la dichiarazione del sindaco Fanfani. Secondo il primo cittadino, infatti, si tratta di uno strumento concreto per assegnare risorse e quindi centralità a turismo e cultura per un nuovo sviluppo della città. La posizione è di assoluta contrarietà perché la tassa di soggiorno è un ulteriore balzello che va a gravare, che se ne dica, su operatori già provati da un'imposizione fiscale che è arrivata ai limiti dell'insopportabile. Una tassa di soggiorno che non era prevista, avevamo anzi avuto ampie assicurazioni da ambienti vicini all'amministrazione che non sarebbe stata applicata. Una tassa che non ha senso perché è una tassa di scopo i cui proventi per legge vanno reinvestiti nel settore sulla quale grava. Il sindaco, giustamente, correttamente, lo abbiamo apprezzato, ha garantito che le risorse eventualmente provenienti da questa tassa saranno reinvestite sul settore attraverso una concertazione, un confronto per decidere tutti insieme quali iniziative approntare per promuovere e rilanciare il turismo in provincia di Arezzo. Dati alla mano, quanti sono i comuni in Italia che applicano la tassa di soggiorno? Secondo un'indagine proposta dalla Mercuri a gennaio del 2014, solo il 36,5% dei comuni italiani applicano la tassa di soggiorno. Da che se ne vince che il 63,5% dei comuni italiani del percentuale dei comuni italiani non la applicano. Non si capisce perché ad Arezzo deve essere inserita all'interno dei comuni che invece la applicano. Proseguono i laboratori e gli incontri del progetto Giovani e Lavoro promosso dal Dipartimento di Scienze e della Formazione Scienze Umane e della Comunicazione Interculturale dell'Università di Siena dal Comune della provincia di Arezzo per supportare studenti e giovani in cerca di occupazione per il ciclo di seminari su Pensare il Lavoro senza stereotipi di genere. Domani alle 14.30 presso il Campus Universitario del Pionta è previsto un incontro con imprenditrice e testimoni privilegiati tra cui la Presidente della Cooperativa Sociale Coenè Grazia Faltoni la direttrice di CNA Formazione Erika Falsini e Irene Schiatti dell'International Studies Institute di Palazzo Ruccellai di Firenze. Gold Night la prima edizione notturna per la fiera antiquaria in collaborazione con Oro Arezzo. Un'occasione speciale per espositori e visitatori. Sabato 5 aprile la fiera antiquaria rimarrà aperta fino alle 23 per la prima edizione notturna della storica manifestazione aretina. L'evento è stato programmato in concomitanza con Oro Arezzo che si svolgerà presso il polo fieristico aretino per sfruttare l'arrivo in città di buyers ed espositori del settore orafo. Grazie ad un accordo con ConfCommercio inoltre circa 200 negozi del centro storico rimarranno aperti aderendo all'iniziativa Gold Night. Un'opportunità unica per far conoscere la città e la fiera a tutti. È una possibilità e un'opportunità che ha visto lavorare insieme Arezzo Fiele tutto lo staff della fiera antiquaria l'associazione commercianti la camera di commercio che si è fatta proprio fautrice di tutta la manifestazione proprio per cogliere questa volontà di lavorare insieme tutti insieme compreso i privati. Se da un lato è ancora troppo presto per tracciare un primo bilancio della fiera antiquaria dopo il passaggio che ha consegnato la gestione diretta della manifestazione nelle mani del comune di Arezzo dall'altro risulta evidente come il fattore meteorologico influisca in maniera consistente sui numeri delle differenti edizioni Il tempo è un invitato prezioso se abbiamo la pioggia è evidente che tutto prende un altro aspetto e la luce del sole porta fuori veramente tutti per cui l'esempio è stato l'ultima fiera che avevamo avuto un sabato importante comunque nonostante il tempo non bellissimo ma che ha visto l'apoteosi poi la domenica la domenica i banchi sono stati aperti fino alle 19 di loro spontanea volontà senza chiudere prima perché comunque c'era passaggio c'era gente c'erano vendite Continua il percorso di preparazione alla Pasqua in Diocesi domenica è in programma la stazione Quaresimale Terra Nuova Bracciolini mentre la domenica successiva sarà il turno di Sansepolcro nella domenica delle Palme sempre per questa domenica è in programma in tutte le parrocchie della Diocesi la raccolta per la Quaresima di Carità il cui ricavato servirà a sostenere il fondo per le caritas parrocchiali un gruppo sportivo in ogni parrocchio incontro in seminario con l'assistente del centro sportivo italiano Don Alessio Albertini quando si parla di sport e vita cristiana fra le realtà in prima linea nell'impegno alla diffusione di valori sociali e di sviluppo di relazioni sane fra i ragazzi c'è il centro sportivo italiano un lavoro che si concretizza con il progetto un gruppo sportivo in ogni parrocchia che sarà presentato il prossimo mercoledì 9 aprile durante un incontro che si svolgerà al seminario di Arezzo in piazza del Murello a partire dalle 10 con un ospite d'eccezione Don Alessio Albertini assistente ecclesiastico nazionale del centro sportivo italiano e fratello dell'ex calciatore del Milan Demetrio Albertini siamo riusciti a creare a organizzare questo incontro grazie a sua eccellenza al nostro arcivescovo che è un approfondimento per i sacerdoti questo che cosa significa che ai sacerdoti verrà presentato il centro sportivo come opportunità per creare gruppi sportivi all'interno delle parrocchie quindi oltre a presentare il centro sportivo italiano ai sacerdoti proporremo proprio questa prospettiva questa opportunità quella del progetto di un gruppo sportivo ogni parrocchia che è un modo per riportare lo sport intorno alle nostre chiese ma ripeto lo sport non come fine a se stesso ma come mezzo educativo e qui ancora di più lo sport diventa mezzo educativo per il semplice fatto che se all'interno delle società federali l'ottenere dei risultati può essere anche un qualche cosa di importante all'interno di una parrocchia la cosa importante è creare gruppo creare amicizia presentare dei valori veri ed importanti quindi fare educazione nel 2013 il tasso di disoccupazione nella provincia di Arezzo ha raggiunto l'8,2% mentre 5 anni fa era fermo al 4,9% questa è la fotografia scattata dall'osservatorio provinciale del mercato del lavoro su elaborazione dei dati Istat in particolare preoccupazione testa il dato riguardante la disoccupazione tra i giovani il 36% di coloro che hanno tra 15 e 24 anni è disoccupato mentre 5 anni fa il dato era inferiore al 20% difficile situazione testimoniata anche dai dati del centro per l'impiego della provincia di Arezzo che nel 2013 ha superato i 52.000 iscritti Clive Griffiths al Festival Cinemi Cinema con lo spettacolo Spichisi Dopo i laboratori di sabato 29 e lunedì 31 marzo è iniziata la nuova edizione di Cinemi Cinema il festival dedicato ai ragazzi e alle scuole l'evento ha come principale obiettivo quello di sviluppare dare voce alla creatività giovanile e quello di rappresentare un momento di scambio culturale ogni anno infatti i ragazzi delle scuole aretine incontrano coetanei di altre nazioni quest'anno sono presenti una scuola belga per il progetto Comenius la Grand Bouff e un'indiana per il progetto Bollywood grande soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori integrazione amicizia sono questi gli ingredienti alla base del progetto Cinemi Cinema ha dichiarato Marcella Baione i ragazzi devono capire l'importanza di rompere le frontiere di conoscere se stessi e gli altri e soprattutto di parlare una lingua straniera per crearsi un futuro migliore eventi come questo continua l'organizzatrice servono come invito ad aprire le porte della mente perché dobbiamo uscire dal nostro concetto di rimanere chiusi nella nostra città tra le iniziative di questa edizione c'è lo spettacolo Speak Easy di Clive Griffith che attraverso musica e slide con i testi delle canzoni cerca di avvicinare i ragazzi alla lingua inglese il sindaco di Montevarchi Francesco Maria Grasso e alcuni assessori hanno incontrato oggi Sokol Basciota il sindaco della città kosovara di Kline scopo della visita in Val Darno che si protrarrà fino a venerdì è conoscere alcune aziende agricole del territorio e alcune aree verdi fluviali recuperate in Val Darno e Casentino in quanto la cittadina di Kline è collocata lungo un fiume fortemente degradato nell'incontro è stata verificata la possibilità di eventuali scambi o forme di collaborazione Casa Diritta presentata l'iniziativa del Comune di Arezzo a sostegno dei diritti dell'infanzia presentato il cartellone con tutte le iniziative promosse dall'amministrazione comunale di Arezzo per la promozione e la tutela dei diritti dei bambini le attività si svolgeranno tra aprile e primi di giugno presso la Casa Diritta di Via Garibaldi quando si parla di infanzia quando si parla di bambini di famiglia deve essere un bene pubblico che non solo il Comune se ne deve fare responsabile ma deve essere un qualcosa di condiviso protetto e cresciuto insieme a tutta la comunità ed è per questo che il programma spazia da temi ambientali dalla corretta alimentazione fino anche al saper vivere relazioni in famiglia e con i genitori buoni in questi tempi in cui forti sono i conflitti le tensioni saper recuperare il tempo per noi stessi per la nostra famiglia e quindi lasciare il tempo di crescere ai bambini è fondamentale e probabilmente va imparato tra le tematiche quella più importante è l'educazione alimentare perché una sana alimentazione già dall'infanzia può risolvere tante problematiche dell'età adulta ci troviamo oggi a gestire patologie inerenti all'eccessivo benessere che abbiamo avuto negli anni passati per cui le sindome così metaboliche degli adulti sono quelle che poi comportano problematiche cardiache cerebrali dico tumori che chiaramente sono quelle quindi iniziare fin da bambini è fondamentale una corretta alimentazione un corretto stile di vita ci consentiranno negli anni prossimi di avere dei bambini sani dei giovani sani degli adulti con meno patologie o con meno comorbidità e quindi questo programma questi progetti sono sicuramente l'elemento fondamentale per raggiungere un obiettivo stile di vita alimentazione corretta benessere con la prima squadra di serie via riposo la Stella Azzura si gode le imprese delle ragazze del settore giovanile le ultime soddisfazioni arrivano dalla Juniors di mister Elena Bruno che con l'ultima vittoria per 3 a 1 sul Livorno sta trascinando la società retina ad un passo dalla storica conquista della Coppa Toscana di calcio femminile quattro successi in quattro partite hanno permesso alla Stella Azzura di portarsi in classifica a più due sul Castelfranco un vantaggio quanto mai rassicurante considerando che manca una sola gara al termine della competizione prima omente questa è la nostra ultima notizia ricordiamo subito dopo la sigla il consueto appuntamento con il meteo grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi grazie per aver guardato